Ciao a tutti ragazzi e bentornati dai delfini di RT 1936 Ciao, oggi siamo in un nuovissimo video, come sempre Oggi andremo a parlare di Pescara, Cittadella, 0 a 1 Per il Pescara, ole, oh, cioè scusatevelo dire Cittadella, Pescara, 0 a 1 Per il Pescara, ole, oh, forza Pescara, le, forza Pescara Le, forza Pescara, le, re, go, di Odegar Minuto 92 Signori, oh sì, perché al minuto 92 ha segnato Odegar, gran gol, gran rete Signori, dobbiamo dire che comunque anche il Cittadella ha dato del suo E andremo al centro del video, bella, ciao Allora, dobbiamo dire che il Pescara ha giocato molto bene Dall'ottantaduesimo in poco Proprio tutti i 22 in campo, pure quelli del Cittadella Più di 45 minuti non era un gran che Sia da una parte sia dall'altra Ma è il secondo tempo Si scatina il Delfino E si scatina la torre del Cittadella Entrambe le squadre Fanno una vera e propria guerra In attacco Il Cittadella aveva un grande attaccato lì davanti Che adesso non mi ricordo il nome Però faceva belle giocate E faceva molte azioni da gol Però poi Ci hanno annullato pure un gol a noi Perché secondo me era regolarissimo Il fallo non c'era Poi ad un certo punto esce Capone E quindi È un cambio Che forse È stata scelta da Grassadonia Per dare spazio ai più giovani Anche se Capone non è un grande attaccante Una cosa che potrebbe chiudere il bench Invece è quella di far entrare Galano Poi per un certo punto Attenzione per la nuova Serve Capone Che tira Tiro Murato Ed è pazzesco il tentativo Poi per l'attenzione al 92esimo Il Pescara Con Scogna Emilio Che serve Odegaard colpo di testa E rete 92esimo minuto E rete Pazzesco del Pescara Che Ritorna Cioè che torna in vantaggio Che è in vantaggio E Pazzesco Rette di Odegaard Minuto 92 Finalmente si sblocca Su un grande assist Di Scogna Emilio Val pazzesco Val pazzesco Niente Scusate se non ho fatto il video contro il Lecce Però Ero un po' in ansia per la classifica Per tutto quanto Ora signori vi farò salutare Mi fratello Nicolás Aspettate un secondo Ed eccolo qua Ciao E signori Rettimi del 936 È tutto E noi ci vediamo in un nuovissimo video Bella Ciao Ciao